Ciao! Video sui prodotti determinati di febbraio e parto a farvi vedere i prodotti ho terminato l'acqua micellare questa qui della Garnier questa acqua micellare deterge pelli sensibili, strucca, deterge, lenisce senza risciacquo, viso, occhi e labbra io la vado comunque a risciacquare perchè è mia abitudine risciacquare comunque le acque micellari anche se indicano di non farlo però con questa acqua micellare io mi trovo benissimo l'ho già riacquistata sono 400 ml e entrambe le volte l'ho presa sempre quando era in offerta sui 3 euro di tutte le acque micellari che ho provato questa non è per niente appiccicosa sul viso perchè la maggior parte di quelle che ho provato mi danno proprio la sensazione di dover andare a risciacquare il viso perchè sono sono appiccicose lasciano quella sensazione proprio di appiccicaticcio sul viso invece questa non mi lascia quella sensazione mi rimuove tutto mi strucca anche il trucco occhi però un po' più a fatica quindi preferisco utilizzare uno struccante specifico per gli occhi e questa su tutto il viso però mi piace veramente tanto non avrà un buon inci però la trovo ottima comunque poi la vado a risciacquare quindi va benissimo lo stesso poi ho terminato il balsamo dell'alchemilla questo alcedro e finocchio ideale per capelli deboli e sfibrati questo qui fortunatamente l'alchemilla ho visto che ha cambiato la confezione ha fatto come biofficina toscana va bene e ha fatto la confezione tipo in tubetto perchè far uscire l'ultima parte del balsamo da questa confezione è stata veramente un'impresa è un balsamo ottimo mi districa benissimo i capelli l'odore persiste un po' sui capelli me li lascia morbidi luminosi belli veramente non amo particolarmente questa profumazione penso che quando lo andrò a ricomprare prenderò quello arancio e limone perchè ho chiesto anche per esempio a Simona Simon Loves Makeup che lei li ha provati tutti di differenza tra le funzioni che hanno ogni balsamo è indicato per una tipologia di capelli di differenza tra i tre balsami che sono questo quello arancio e limone quello lavando e eucalipto lei non le ha riscontrate quindi siccome preferisco la profumazione arancio e limone penso che poi andrò a acquistare quello lì è un prodotto però che sicuramente riprenderò ha un all'interno quando lo utilizzate rischiate di scivolare che sia vasca che sia doccia perchè si scivola utilizzando questo qui però è un prodotto fantastico poi ho terminato questo doccia crema 2 in 1 dermo protettivo con burro di cacao della fitorelax questo qui questo è stato un regalo di Natale di una mia amica sono 250 ml ora all'interno c'è dell'acqua perchè per farlo uscire ci ho messo l'acqua perchè anche questo ha la confezione ha lo stesso problema di questa qui essendo una confezione così rigida e questo doccia crema essendo molto consistente proprio cremoso si faceva fatica a far uscire l'ultima parte dove praticamente quando il prodotto è arrivato diciamo all'incirca qui ora quella che è all'interno è solamente acqua che io ho messo per farlo uscire non è male fa una buonissima schiuma l'odore di cacao si sente non persiste sul corpo però comunque poi vado a mettere una crema ma non lo riprenderò perchè trovo scomodissima questa confezione perchè farlo uscire fino a che a metà esce tranquillamente poi dopo comunque si fa molta molta più fatica però la schiuma è ottima e è anche abbastanza idratante perchè comunque ha la consistenza di una crema e lascia la pelle molto molto morbida poi ho terminato questo detergente intimo dell'Ecos con uno strato biologico di camomilla questo qui questo già vi ho parlato in un altro video a me non piace cioè come detergente intimo non mi piace mi ha dato problemi mi ha dato prurito ma l'ho terminato come sapone per le mani come sapone per le mani non mi dispiace per niente lava bene lascia le mani morbide idratate e diciamo che per questa funzione va benissimo però quando ricapito al tigotà sicuramente se devo ricomprare ricomprerò il sapone dell'Ecos quello indicato proprio per le mani perché tanto è inutile che prendo questo intimo se poi lo devo usare per le mani come detergente intimo a me non è piaciuto mi ha dato realmente fastidio perché mi dava proprio prurito non mi dava quella sensazione di freschezza non mi sentivo lavata quindi assolutamente no come detergente intimo poi ha terminato il detergente rinfrescante questo qui della Viver de Cop che c'era dell'acqua e mi è cascata tutto addosso benissimo questo qui sono 150 ml costa all'incirca mi sembra sui 3-4 euro io mi sono trovata molto molto bene con questo lascia la pelle morbidissima fa una bella pulizia pulisce comunque a fondo il viso non amo particolarmente l'odore quindi per questo motivo sicuramente non lo andrò a riacquistare perché ne ho altri comunque per esempio quello di Giardino Cosmetico che mi lascia la stessa sensazione di pelle morbida sul viso però a parità insomma di detersione e di idratazione della pelle preferisco l'altro perché ha una profumazione migliore questa è una profumazione erbosa che non mi piace poi ho terminato di dell'idea mi si sta agganciando la maglia non so dove ho terminato di dell'idea all'esfoliante viso purificante questo qui mele bambù leviga a fondo questo qui allora a me questo non è dispiaciuto però alla fine l'ho aperto semplicemente perché quando il prodotto diciamo era arrivato all'incirca qui dove ho tagliato usciva solamente la crema perché questa ha una consistenza cremosa con all'interno dei granuli diciamo che arrivate qui i granuli non c'erano praticamente più all'interno quindi preferisco altri scrub a questo punto perché se comunque tre quarti di prodotto è scrub e un quarto è solo crema preferisco utilizzare un altro prodotto fino a che diciamo c'erano i granuli è uno scrub che mi piace non è uno scrub di quelli potenti è uno scrub abbastanza leggero infatti io lo facevo magari anche tre volte a settimana lo utilizzavo al posto del detergente viso perché comunque è uno scrub abbastanza delicato fa il suo lavoro però non è di quelli forti come piacciono a me insomma non mi è dispiaciuto come prodotto però ecco il fatto che qui in fondo non ci fossero per niente i granuli non mi è piaciuta per niente questa cosa poi gli ultimi tre prodotti così almeno non smuovo più la busta non faccio più rumore ho terminato il contorno occhi rivitalizzante protettivo di verde cop non lo andrò nemmeno a tagliare perché a me questo prodotto non piace per il mio contorno occhi questo è praticamente acqua fresca infatti lo utilizzavo diciamo la mattina giusto per mettere qualcosa perché su di me non fa praticamente niente non serve praticamente a niente non è né così idratante da dire che va bene per un contorno occhi secco non è né poco idratante non dà niente non dà l'effetto comunque disteso non mi è proprio piaciuto sì questo era 4 euro ma secondo me non vale proprio la pena di provarlo probabilmente va bene magari per quelle ragazze che hanno non lo so 20 anni che comunque vogliono iniziare ad utilizzare un contorno occhi per chi per chi come me ha 30 anni con questo non ci vale niente praticamente poi ho terminato scusate ma mi affogo oggi in questa giarrina c'era la crema di Alchemilla quella dermopurificante che mi aveva mandato Francesca io con questo campioncino ci ho fatto praticamente quasi un mese quasi utilizzandola semplicemente di giorno e questa crema è fantastica è una crema abbastanza corposa che va comunque ad idratare bene il viso è adattissima per chi come me ha la pelle missa perché è l'unica crema che ho provato con la quale io mi lucido veramente dopo tante ore è normale non è che mi tiene opaca tutto il giorno però io passo inizio a lucidarmi diciamo a metà pomeriggio quindi la trovo ottima è molto molto idratante non amo per niente l'odore perché sa di liquirizia a me non piace la liquirizia non amo l'odore però è una crema fantastica ora la riprenderò sicuramente la comprerò a fine estate perché per l'estate credo che è troppo corposa per la mia pelle per me l'estate serve qualcosa proprio di molto leggero però per il prossimo inverno la comprerò sicuramente perché è fantastica all'inizio ero veramente scettica perché una crema così corposa per una pelle mista mi sembrava troppo ma Francesca mi aveva scritto perché me l'ha mandata Francesca Sissi & French che lei ci si trovava molto bene ed effettivamente aveva ragione perché nonostante è corposa dà proprio l'effetto opaco al viso e mi piace veramente tantissimo grazie Franci l'ultimo prodotto che ho terminato è la cipria di Benekos questa qui io l'avevo acquistata a marzo questa estate non l'ho usata perché era troppo chiara per me e devo dire che a me questa cipria non dispiace mi ci trovo bene mi tiene opaco il viso abbastanza a lungo mi trovo bene con questa cipria costa 4 euro quindi secondo me è anche un ottimo rapporto qualità prezzo a 9 grammi di prodotto e non mi dispiace come cipria non è è di quelle comunque non dà quel velo di colore quindi la dovete mettere sopra il giusto fondotinta che sia del colore della vostra pelle perché non ha non ha quel velo di colore che va comunque a cambiare il colore del fondotinta o della BB trim o di quello che andate a mettere sotto l'ho utilizzata anche sola senza fondotinta al di sotto e non mi dispiace nemmeno in quel caso perché sul mio viso regge tranquillamente quindi mi piace anche per questo non l'andrò a ricomprare perché ne ho già un'altra che me l'ha regalata a Simona Simon Loves Makeup per Natale quindi già ce l'ho la sostituta e niente ragazzi questo era tutto fatemi sapere se avete provato alcuni di questi prodotti e ci vediamo al prossimo video ciao